Giovedì 18 aprile 2019, buongiorno, bentrovati dalla nostra redazione, l'appuntamento quotidiano come ogni mattina con la rassegna stampa, mattino 6 che si apre con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dall'edizione di Pescara del centro, il titolo di apertura, eccolo qui inquadrato, riguarda la cronaca giudiziaria, accusa la moglie di tentato omicidio, Pescara in tribunale, l'imprenditore è finito in ospedale per dosi massicce di Cumadin e poi vedete a centro pagina questa foto, questa foto davvero significativa, il Pescara a casa di Paola, la tifosa Biancazzurra, tra l'altro giornalista, nostra collega che da qualche anno combatte la SLA, la vedete nella foto proprio con la maglia del Pescara assieme al tecnico Pillon, al presidente Daniele Sebastiani, al capitano della formazione Biancazzurra, Gaston Brugman e al team manager Andrea Gessa. Vediamo le cronache, Pescara, area di risulta, ecco le proposte dei candidati e poi la cronaca, donna investita sulle strisce a Montesilvano, finisce in ortopedia per la frattura del bacino e poi Adelice, salvato dal 118, cade nel diupo sotto gli occhi della moglie, è caduto nella mattinata di ieri e poi la cronaca, presi banditi del colpo in gioielleria, sono gli aggressori della troupe Rai, stavano pianificando un'altra rapina. Vediamo nella parte alta della pagina, Rigo Piano, le telefonate prima della tragedia sono al caldo, aspettano queste alcune delle intercettazioni che sono state rese note da chi sta indagando e da chi ha indagato su questa tragedia. E poi Abruzzo, vedete si parla di trasporti della tua, oggi ci sarà infatti la nomina del nuovo Presidente che sarà Giuliante, esponente della Lega. E poi Acqua Gran Sasso, ecco l'atto che evita la chiusura del traforo. Andiamo a vedere la prima pagina del centro Chieti-Lanciano-Vasto, l'Ateneo riapre Palazzo Veneziani, l'Università torna sul colle, il Rettore Caputi offre a Confindustria un milione e mezzo. Vediamo poi a centro pagina, Chieti sequestrato un centro scommesse abusivo dopo un blitz della Polizia, poi Lanciano droga all'ospizio, arrestate madre e figlia, Cupello presa la banda della rapina alla gioielleria. Vediamo poi una notizia di cronaca che ci porta a Vasto, malore sul motopesca, muore a 51 anni, Nicola Sarchione era impegnato in una battuta 12 miglia a sud est del porto Bastese. Vediamo la prima pagina di Teramo, del centro Teramo Ambiente, torna il gruppo Gavioli, la società dell'ex presidente Enertec vince l'asta per il socio privato battuto Iachini. Vediamo poi a centro pagina, vedete, tira a fuoco vicino al traforo, chiusa l'autostrada A24 nei pressi di Colle d'Ara con i vigili del fuoco all'opera per domare il rogo. Il dopo terremoto, il sindaco di Teramo chiede più soldi per la città, elezioni a Giulianova, Costantini, qui il centro-destra dice non esiste più. E poi Atri, il WWF chiede di chiudere la discarica di Santa Lucia. Vediamo anche un'altra notizia nella parte bassa della pagina, spaccio e usura, processo azzerato, Tribunale di Teramo cambiano i giudici e bisogna ricominciare tutto da capo. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila-Vezzano sul Mona del centro. L'Aquila ora punta sulla cultura, accordo Ministero Comune-Arcidiocesi per il rilancio della città, tutte le iniziative per quanto riguarda proprio il rilancio dell'Aquila. Post-sisma, L'Aquila Boccia, la fiction Grandi Speranze, la prima puntata andata in onda su Rai 1, ha ricevuto critiche anche da importanti esponenti politici aquilani della nostra regione. Restiamo all'Aquila, stalker seriale condannato a sei anni, Avezzano, De Angelis apre alla riflessione con i quattro ribelli. E poi Castel di Sangro, Chioschi, tassa sull'occupazione, meno cara. Vediamo anche un'altra notizia luttuosa in questo caso che riguarda il foro dell'Aquila. Malore Stronca, l'Avvocato di Napoli, illegale, 55 anni, è deceduto mentre si trovava nella casa della sorella. Vediamo anche la prima pagina del messaggero, l'inserto Abruzzo. Busetti, subito le scuole, terremoto. Il Ministro ha incontrato il Presidente della Regione Marsiglio, contributi per accelerare la ricostruzione. Allo stato attuale in Abruzzo sono disponibili 47 milioni di Euro rispetto ai 322 necessari proprio per accelerare la ricostruzione. Vediamo anche di spalla l'articolo che riguarda la sanità, conti migliorati, ma i servizi sono scadenti questi numeri di uno studio che è stato presentato proprio in questi giorni. Vediamo poi più in basso l'Aquila, ne parlavamo poco fa, fiction sul sisma, polemiche nel capoluogo. E poi Piazza Salotto, presi i due rapinatori. E poi ancora, non mi importa di Rigopiano, l'altra emergenza, due funzionari intercettati dopo la strage, veleni incrociati in ballo, anche la questura, leggiamo in questo titolo della prima pagina del messaggero. Vediamo anche in basso, andiamo a Chieti, studenti in gita sul bus da incubo. Nella parte alta della pagina invece ritroviamo altri richiami di notizie che troveremo all'interno del giornale, anche di sport. Partiamo però da Lanciano, i carabinieri trovano la droga nella residenza per gli anziani, c'è stato il blitz nelle ultime ore dei militari dell'arma. E poi Serie D oggi in campo per decidere retrocessioni e play-off. A tal proposito, come ogni volta che la Serie D scende in campo, noi ovviamente seguiremo la giornata delle abruzzesi del Girone F, lo anticipo proprio in quest'istante, proprio approfittando di questo titolo del messaggero. Dunque oggi ci saranno i due appuntamenti canonici con diretta stadio dalle 15 e poi questa sera come sempre alle 19.30 l'Abruzzo del pallone in una serata molto intensa che poi vedrà anche alle 21 la puntata di Velo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Parleremo dopo di sport e di Serie D, torniamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, parliamo del Pescara, Memushai avverte il Carpi, vincerò io con il Pescara, gara particolare per il giocatore albanese che è uno dei grandi ex di questa partita assieme al tecnico della formazione adriatica Pillone. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, Teramo Ambiente, il nuovo socio e il vecchio socio, l'asta per il 49% della partecipata, giudicata Stefano Gavioli per 1 milione e 755 mila Euro. Vediamo anche altre notizie, Giulianti alla presidenza tua, morra forse nel CDA, morra ex assessore regionale della giunta Chiodi. Poi Roseto degli Abruzzi, via i lavori alla foce del Vomano. Vediamo anche un'altra notizia, traforo a rischio chiusura, le conseguenze dell'inchiesta sull'acqua sicura, leggiamo da questo titolo e poi Teramo, un manicomio all'ex manicomio, lavori bloccati dalla guerra dei gatti e dalle denunce. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere invece l'edicola nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera, lite sull'aumento dell'IVA, il Ministro Tria dice è confermato, se non ci sono altre misure, no di Lega e di Di Maio, esponente vice premier ed esponente del Movimento 5 Stelle. E poi vedete più in basso questo raro caso che arriva da Monza, gemelli ma non troppo, nati a due mesi di distanza l'uno dall'altro, il raro caso di Alessandro e Andrea. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Repubblica, le Volpi e l'IVA, titolo che gioca sulla Volpe e l'Uva, Lega e 5 Stelle contro il Ministro Tria, impediremo l'aumento della tassa, per evitarlo ci vogliono 23 miliardi, si studia piano per diluire i rincari. E poi i ragazzini dell'Ajax più forti dei giganti, c'è l'analisi del quotidiano La Repubblica sulla vittoria dell'Ajax a Torino e sull'eliminazione della Juventus nei quarti di finale della Champions League. Parliamo anche del caso Cucchi, chiesto il processo per otto ufficiali dei carabinieri che depistarono, come è scritto qui in questo titolo, di Repubblica. E poi un'altra notizia, zone rosse in tutte le città, Salvini, commissaria, i sindaci, scontro sulla direttiva antidegrado. Vediamo il fatto, Salvini fa infuriare l'esercito, questo è il titolo in apertura, nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l'ingerenza del Viminale e Conte strappa la stima di Trump per la mediazione a Tripoli. Vediamo anche un altro titolo, nella parte alta della pagina Roma non andrà alla Lega, non torneremo al passato, Virginia Raggi al forum del fatto parla proprio di Roma e anche del futuro in chiave politica della Capitale. Vediamo il messaggero nazionale, aumento IVA, sfida nel governo, Tria in mancanza di alternativa vanno riviste le alicote, no di Salvini e Di Maio. E poi vedete questa foto, Razzi su Tripoli, Conte chiama il Presidente americano Trump, colpite abitazioni civili, l'ONU accusa Aftar, crimine di guerra. Vediamo anche il mattino di Napoli, europee, liste al veleno, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, scontro al sud. E poi in alto il titolo di apertura riguarda, sul quotidiano napoletano non poteva che riguardare il Napoli che questa sera scende in campo in Europa League per affrontare il San Paolo l'Arsenal e per cercare di ribaltare lo 0-2 dell'andata, dice Ancelotti, occorrono cuore e testa all'andata. Vinsero gli inglesi con il più classico dei punteggi, il manifesto, depistaggio Cucchi verso il processo, questo è il titolo che abbiamo visto anche su Repubblica. E poi l'IVA funesta, Tria conferma, vedete questa foto col titolo del manifesto, Tria conferma l'aumento dell'IVA in attesa di misure, ha detto il Ministro, alternative. Vediamo anche questa notizia che riguarda la scomparsa di un noto giornalista italiano, si tratta di Massimo Bordin, la voce più ascoltata di Radio Radicale, la sua rassegna stampa, la sua rassegna dei quotidiani è stata davvero un appuntamento imperdibile ogni mattina per milioni di italiani su Radio Radicale. Vediamo anche il giornale, altre tasse, basta, Tria conferma, aumenterà l'IVA, maxi stangata sulle famiglie. Vediamo anche il prossimo quotidiano che è il Sole 24 Ore, ovviamente il Sole 24 Ore focalizza l'attenzione proprio sul possibile aumento dell'IVA, l'aumento dell'IVA, dice il Sole 24 Ore, scrive in questo titolo, divide il governo, Tria l'incremento rimane confermato in attesa di misure alternative, Lega e Movimento 5 Stelle all'attacco, nessun aumento, Boccia, dice riforma fiscale globale. Boccia, Presidente di Confindustria. Vediamo anche un titolo in basso che riguarda il PIL Cina, il PIL sale oltre le stime, la Germania rallenta ancora, Germania che è la locomotiva d'Europa, è dunque una notizia non buona proprio per tutti i paesi del vecchio continente. Il tempo di Roma, altro taglio del governo ai comuni, comuni in rivolta, ridotti trasferimenti statali agli enti locali. E poi vedete anche al Papa, tocca benedire Greta, il Papa che ha incontrato questa giovane che sta portando avanti, sta facendo davvero notizia in tutto il mondo questa battaglia contro i cambiamenti climatici e per sensibilizzare proprio su questi cambiamenti climatici. Siamo alla stampa di Torino, i 5 Stelle contro Salvini, no ai potestà fascisti, degrado urbano, il leader leghista vuole trasferire poteri dai sindaci ai prefetti. Vediamo anche il secolo, la buona scuola non è qui, professoressa siciliana, offende musumeci sui voti dei mafiosi, va cacciata, scrive il secolo. In questo titolo vediamo anche il quotidiano La Verità, il titolo di apertura in alto, Renzi chiede soldi agli sbancati, l'ex premier annuncia una raffica di querele, bersagni molti giornalisti, ma pure il cantante Pelù e il cuoco Vissani, leggiamo da questo titolo della Verità. E poi vedete anche come in precedenza, vediamo questa foto, l'industria Greta Tira, corrono tutti a sfruttarla e c'è stato questo incontro con il Papa che vedete nella foto. Restiamo sul quotidiano La Verità, andiamo più in basso, tifano guerra per far riprendere l'invasione, dalla Mogherine 5 Stelle fino al capo delle forze armate, sembrano ansiosi di vedere arrivare decine di migliaia di persone dalla Libia, terroristi compresi, questo è il titolo di centropagina del quotidiano La Verità. Infine l'ultimo titolo che troviamo sul giornale diretto da Maurizio Belpietro, in basso lo vedete riguarda lo sport, la sera da Cani alla Juve è costata 400 milioni. Lasciamo il quotidiano La Verità, vediamo avvenire il giornale della conferenza episcopale italiana, respingimenti illegali, il titolo nella parte alta di apertura e dunque nella parte alta della pagina, documenti esclusivi, ecco le prove che i soccorsi delle motovedette libiche sono dirette da militari italiani in Libia e riportano potenziali rifugiati nei luoghi di tortura, gli ordini mai scritti di Salvini, anche su Avvenire vedete la foto con Greta che ha incontrato il Pontefice e sullo stesso quotidiano si parla della conferma data dal Ministro Tria per l'aumento dell'IVA nel nostro Paese con la rivolta nel governo. Lasciamo dunque il quotidiano Avvenire, lasciamo l'edicola nazionale, torniamo sulle pagine del quotidiano Il Centro per andare a vedere, tornare a leggere insieme le notizie di casa nostra, ripartiamo da pagina 2, l'inchiesta sull'acqua, traforo ecco l'atto che evita la chiusura, il MIT scagiona strada dei parchi, non tocca al concessionario a 24, mettere in sicurezza le condotte nel cuore del Gran Sasso. Andiamo più in basso, terremoto l'emergenza scuole, patto tra Marsiglio ed il Ministro, il patto tra il Ministro dell'Istruzione e Bussetti e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio che vedete nella foto, ieri c'è stato l'incontro a Roma. Risorse aggiuntive rispetto ai 322 milioni già stanziati per completare tutti gli interventi previsti, 15 nuove assunzioni negli uffici speciali per la ricostruzione, grazie ai fondi non spesi dunque promesse del Governo per quanto riguarda la ricostruzione e il consolidamento degli edifici scolastici. Andiamo a pagina 3 per parlare dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, vedete il titolo Rigopiano, stanno al caldo, aspettano dalle intercettazioni degli indagati frasi agghiaccianti come quella della dirigente della Prefettura prima della valanga, questo è il sottotitolo, il sotto del centro proprio riguardo la tragedia di Rigopiano e quelle che sono definite nella parte alta della pagina, telefonate shock per la tragedia in 31 sotto accusa, vedete poi più in basso, la Procura della Repubblica di Pescara ipotizza omicidio colposo plurimo, depistaggio e frode processuale. Andiamo avanti, torniamo a parlare di cronaca regionale del Valzer, degli incarichi, così come è definito in questo titolo, la tua scatta il cambio al vertice, oggi la nomina di Gianfranco Giuliante, alla Lega dunque la Presidenza dei Trasporti Pubblici, a Forza Italia Valarap lasciata da Leombroni e poi altre poltrone che potrebbero cambiare proprio nei prossimi giorni, nelle prossime ore con nuove nomine. Vediamo anche a questo punto, partiamo con le cronache dalle province, partiamo da Pescara, l'assalto con i fucili in Piazza Salotto, presi i rapinatori della gioielleria, aggredirono gli inviati della RAI, uno in cella, l'altro ai domiciliari, in un video sul telefonino, vengono filmati mentre sparano più avanti. Vedremo il servizio, si erano offesi per l'accusa di spaccio, avevano aggredito, picchiato il giornalista Pier Vincenzi e poi avevano chiesto scusa in TV. Andiamo ancora avanti, ecco la seconda pagina dedicata sempre a questo argomento, se ne è parlato tra l'altro nella conferenza stampa che si è tenuta ieri in questura a Pescara e proprio gli inquirenti hanno rivelato che stavano pianificando un nuovo colpo, questa volta ai danni di un rappresentante di oro. Proseguiamo, cronaca giudiziaria, siamo sempre a Pescara, tentato omicidio, accusa in aula la moglie, voleva ad armi medicinali senza motivo, testimonia l'uomo del quale la coniuge e il figlio avrebbero progettato la morte, somministrandogli forti dosi di cumadin durante il ricovero in ospedale, lei mi punse con qualcosa sulla spalla, ha rivelato l'uomo e come leggiamo in questo titolo del centro di pagina 15. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Pescara degli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Pescara, coordinati dal tenente colonnello Luca Lauro, hanno fatto eruzione in un'abitazione di Francavilla al mare dove hanno trovato 4 kg di droga, una piantagione di cannabis e 119 munizioni, è stato arrestato un 32enne, più avanti anche in questo caso vedremo il servizio. Siamo sempre a Pescara, parliamo a questo punto di elezioni, lasciamo la cronaca verso il voto, manca poco più di un mese alle amministrative che si terranno nel capoluogo Adriatico, i candidati sindaco, ecco la nostra area di risulta, tante le proposte arrivate dai vari candidati per la destinazione d'uso dell'area prospicente, la vecchia stazione. Iniziata siamo nella settimana santa e in 2000 hanno partecipato a Pescara la messa del vescovo di Monsignor Valentinetti al Palagiovanni Paolo II, davvero stracolmo con oltre 2000 persone Il Pescara abbraccia Paola, ritroviamo la notizia con cui abbiamo anche aperto l'appuntamento di oggi con Mattino 6 con la foto nella prima pagina del centro, il Pescara abbraccia la super tifosa che combatte l'Asla, il Presidente Sebastiani, il tecnico Pilon, il Capitano Brugman e Gessa a casa di Paola Mastrangelo. Ti dedicheremo la prossima vittoria, Biancazzurri che hanno donato a Paola Mastrangelo la maglia numero 10, la giornalista in lacrime. Grande emozione. L'appello agli sportivi proprio di Paola Mastrangelo, aiutatemi a portare in Italia cure sperimentali per combattere questa malattia. C'è stato davvero questo gesto molto bello da parte del Pescara Calcio. Vedete proprio il Presidente Sebastiani donare la maglia numero 10 del Pescara a Paola Mastrangelo. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Montesilvano, sempre del quotidiano il centro, parliamo di strade a rischio, attraversa sulle strisce viene investita in via Verrotti, la donna a 51 anni è ricoverata nel reparto di ortopedia per la frattura del bacino. Parliamo anche di amministrative perché oltre a Pescara si vota in quella che è per residenti la seconda città della nostra regione, ovvero Montesilvano che marcia verso i 60 mila abitanti. L'ite nel PD di Ignazio e Gabriele fuori per far spazio a vecchie glorie consiglieri del PD estromessi dalle elezioni, la ventata di rinnovamento è solo una scusa, esclusi per non intralciare i datati che non sarebbero rientrati, hanno detto i due esponenti del Partito Democratico. Ancora cronaca da elice precipita nel dirupo davanti alla moglie 73enne di Cappelle sul Tavo, è stato salvato dai sanitari del 118. E poi il direttore generale della ASL replica al vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari a Montesilvano dice soccorso avanzato garantito. Ancora Montesilvano raccolta porta a porta per altre 2.800 famiglie. E poi siamo a Francavilla, via della rinascita al via i lavori per 100 mila euro, si comincia a maggio con la sostituzione dei tigli e il rifacimento dell'asfalto, riammodernato anche l'impianto di illuminazione. Ancora Francavilla, cavi tranciati, pista ciclopedonale al buio, San Giovanni Teatino, venerdì santo, doppia processione nella giornata. Dunque di domani siamo a Loreto Prutino, torniamo alla cronaca, si ribalta con l'auto, gravi 19enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. E ancora Penne, anziana investita in Viale San Francesco, trasportata all'ospedale di Pescara, anche la donna. Siamo ancora a Penne, incentiva gli studenti pendolari, così Penne va a caccia di giovani. E poi in basso Popoli, il drammateatro di Popoli, di scena al Festival di Trento, grande successo proprio per questa esibizione dei giovani della Val Pescara. Siamo a Chieti, polizia in azione, scusate non stradale, polizia squadra mobile in questo caso, proprio in centro cittadino, perché è stato sequestrato, come leggiamo da questo titolo, un centro scommesso e abusivo, scattano i sigilli e vedete le foto del blitz portato a termine proprio dagli agenti della Polizia della Questura di Chieti. Invece la Polizia stradale è intervenuta per dei controlli, come spesso viene fatto, soprattutto nel periodo delle gite scolastiche, bus per la gita con le cinture incastrate sotto i sedili. Questa è la scoperta che è stata fatta dalla stradale su un bus che doveva effettuare una gita, un viaggio. Vediamo nella parte bassa della pagina la notizia che riguarda l'università, ma anche il centro di Chieti, perché l'Ateneo d'annunzio torna sul colle a Palazzo Veneziani, dunque nella parte alta di Chieti. Il CDA dell'università fissa il prezzo, un milione e mezzo per comprare l'ex sede di Confindustria Chieti, ora vuota. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti, all'altra pagina di Chieti del centro, l'inchiesta con 74 indagati, maxi affari, la droga dei clan albanesi spacciata dentro i vicoli. E questa è la pagina, tutta la pagina dedicata dal centro, proprio a questa inchiesta. Siamo a vasto con questa triste notizia che riguarda la scomparsa per malore di un marittimo su un motopesca. Nicola Sarchione era impegnato in una battuta con i colleghi a 12 miglia a sud, a sud-est del porto di Vasto, è stato colpito da Malorede, morto a 51 anni. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo del centro, parliamo della gestione dei rifiuti, l'asta per il socio privato della Teramo Ambiente che tornerà al gruppo Gavioli, come leggiamo in questo titolo. All'apertura delle buste vince la Comir che fa capo all'ex presidente Enertec, superata l'offerta del Teramano Iachini. Cronaca che ci porta a Colledara, camion a fuoco prima del traforo a 24 bloccata e code di un chilometro in direzione dell'Aquila. Siamo ancora a Teramo, spaccio e usura, il processo riparte da capo, cambiano i giudici, i difensori non danno il consenso all'utilizzo degli atti in aula, sentito anche un pentito della Camorra. Andiamo avanti, vediamo in basso, scioperano i dipendenti della Mercatone 1, agitazione nei punti vendita di Pineto e Colonnella, l'azienda ha chiesto il concordato preventivo. In basso continua la guerra su dove portare i gatti, colonie feline, i carabinieri forestali all'ex manicomio, una struttura dell'ex manicomio di Teramo. Siamo ancora alle pagine del centro, questa volta in provincia, ci spostiamo in provincia per l'esattezza a Silvi, villaggio del fanciullo di Silvi, ma anche il sì della sovrintendenza, si è svolta ieri la conferenza di servizi sulla riqualificazione dell'edificio fatiscente dell'ex colonia. Il progetto deve ripartire entro il 15 maggio prossimo, ma serve il parere positivo dei beni culturali. Atri, il WWF, la discarica deve essere chiusa, l'associazione contesta il progetto di ampliamento e chiede un incontro fra regione e comune. In basso andiamo a Pineto, le mazzarelle nel menù di Pasqua, i tinerari del gusto e poi ad Atri, il lutto per l'addio a nonno Giuseppe, aveva compiuto 100 anni a maggio dello scorso anno. Siamo alla pagina dell'Aquila, il decennale del sisma, le iniziative, il sottosegretario della cultura vacca dice puntiamo sulla cultura per il rilancio del capoluogo. Ed ecco come verranno spesi gli oltre 300 mila Euro, tutte le iniziative in calendario e quelle progettate con la regia del Teatro Stabile Abruzzese e dell'Istituto. l'istituzione sinfonica abruzzese. Vediamo anche la prossima pagina, grandi speranze bocciata dalla città, la fiction sul Rai 1, gli aquilani sui social, non è veritiera, duri i deputati Pezzopane e D'Alessandro, ma in Italia vince la battaglia degli ascolti con il 13% di share. E poi in basso ritroviamo la notizia del lutto del foro aquilano per la scomparsa dell'avvocato di Napoli a 55 anni. Questa è la notizia che arriva sempre dal capoluogo di regione. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci a questo punto per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 e andremo a vedere insieme le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero del quotidiano alla città e vedremo anche alcuni servizi di notizie che andremo a leggere insieme sui due quotidiani. Seconda parte di mattino 6, siamo all'inserto abruzzo del messaggero, pagina 2, parliamo di ricostruzione, la ricostruzione soprattutto per quanto riguarda le scuole. Ne ha parlato ieri nell'incontro a Roma con il presidente della regione Marco Marsiglio, il ministro dell'istruzione Bussetti per le scuole, ha detto stanzieremo altri fondi, gli edifici danneggiati sono quelli dei terremoti del 2009 e del 2016. Strada dei parchi e miti intesa contro la regione, questo è il titolo che troviamo nella parte bassa della pagina. E poi siamo invece alla pagina di Pescara, torniamo a parlare della rapina di Natale, presi i primi due in manette per il colpo del 27 dicembre, officine complicato, Johnny Di Pietrantonio e Kevin Cellini e caccia ai complici, la squadra mobile entra in azione per scongiurare un nuovo assalto armato contro un ingrosso di gioielli in via lungo a Terno. E allora noi andiamo a vedere il primo servizio di oggi, proprio che fa il punto su queste indagini, sugli arresti di ieri, se ne è parlato in una conferenza stampa che si è tenuta in questura a Pescara. Vediamo. Sono stati arrestati due dei presunti quattro rapinatori che armati di fucile lo scorso 27 dicembre fecero irruzione in una gioielleria della centralissima piazza della rinascita a Pescara. Si tratta degli stessi protagonisti dell'aggressione alla troupe della RAI della trasmissione Popolo Sovrano, compiuta al quartiere Rancitelli al ferro di cavallo di Pescara lo scorso 13 febbraio. Il riferimento è a Johnny Di Pietrantonio, 22 anni, e Kevin Cellini, di 24, indagati proprio per la rapina commessa a fine anno. Per il primo si sono aperte le porte della casa circondariale di San Donato, mentre Cellini è finito ai domiciliari. Come hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa gli inquirenti, i due stavano probabilmente definendo gli ultimi dettagli per un altro colpo, questa volta ai danni di un rappresentante di gioielli. È stata un'attività intensa, fatta da perquisizioni nell'immediatezza che hanno dato i primi riscontri e poi abbiamo avviato una serie di attività tecniche fatte di intercettazioni telefoniche e ambientali e ci hanno confermato la pericolosità dei soggetti indagati e la loro propensione a delinquere, tanto che grazie a questi servizi abbiamo potuto capire che erano in procinto di colpire ancora. Di Pietrantonio ha avuto la sfortuna di utilizzare la macchina intestata alla moglie che è stata innanzitutto ripresa dalle videocamere della zona, aveva dei particolari indicativi solo per quel tipo di macchina che è una Golf e in più abbiamo scoperto che aveva montato un sistema di localizzazione per questioni assicurative che ci ha dato delle risposte fortissime sui movimenti della vettura prima e dopo la rapina, anche in occasione dei furti delle motociclette utilizzate dai malviventi. Restiamo ancora a questa vicenda, c'è l'articolo di spalla sul messaggero, vedete il salto di qualità del ferro di cavallo e poi c'è anche la dichiarazione proprio del giornalista Pier Vincenzi, bene così vince la legge, è una soddisfazione aver smosso le acque e riportato l'attenzione su questa zona, ha detto il giornalista. Sclocco sindaco scommette sui prof, professionisti e docenti, ma anche artisti, si schierano a supporto di Marinella Sclocco, ex assessore regionale, candidata sindaco per il PD, dal direttore del conservatorio, il vicepreside del Misticoni, figure dello scautismo con la Gesci e volontari della Fidas. Parliamo anche di un altro candidato sindaco di Pescara, Carlo Costantini, che presenta più Europa. E poi la cronaca giudiziaria, così mia moglie voleva uccidermi con il Cuma di faccia a faccia in tribuna nel corso della giornata di ieri. Menze scolastiche, braccio di ferro su stipendi e contributi dei lavoratori a Pescara. Andiamo a vedere la prossima pagina, si parla della tragedia di Rigopiano, non mi frega niente di Rigopiano, l'emergenza e altro, altre telefonate shock dalle carte dell'inchiesta BIS. Torniamo invece alla cronaca, lo facciamo con questo articolo, serra per la coltivazione di marijuana dentro casa, un arresto della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara a Francavilla al mare. Allora andiamo a vedere il prossimo servizio, proprio per parlare di questa operazione portata a termine dai militari delle Fiamme Gialle nelle ultime ore. La settimana scorsa abbiamo concluso questa attività di servizio, che è partita da alcune segnalazioni che avevamo ricevuto ovviamente da residenti in zona, su un andirivieni un po' sospetto, un viavai anomalo in una palazzina di Francavilla e ovviamente fatti i dovuti riscontri, appostamenti e petinamenti, poi siamo riusciti a individuare questo ragazzo, questo 32enne di Francavilla, che in effetti poi all'esito dell'attività della perquisizione in casa, ci ha rivelato avere un vero e propria serra, una serra avendo adebito l'abitazione con ben tre stanze a grow room, come si dice in gergo, per la coltivazione della canapa. Come potete vedere dalla marijuana che abbiamo esposto, insomma il quantitativo è rilevante, oltre 4 kg, poi abbiamo trovato anche un po' di hashish, più di 100 cartucce calibro 12, illecitamente detenute, e quindi sostanzialmente l'attività è stata pregnante. Per noi è importante perché questo fenomeno della coltivazione indoor di marijuana è molto frequente, purtroppo stiamo constatando, perché evidentemente è anche molto redditizio, quindi piuttosto che approvvigionarsi con i soliti canali da spacciatori magari nelle zone più ammalfamate della città, adesso si tende, soprattutto quelli che magari sono un po' fai da te, anche apprendendo da internet i segreti della coltivazione, tendono a farsene in casa. In questo caso abbiamo trovato una situazione professionale, adesso noi abbiamo quantificato attorno ai 50 mila Euro, perché ovviamente abbiamo trovato solo questi 4 kg, però tenga presente che se l'attività andava avanti, come sembra, da un po' di tempo, e sarebbe andata avanti a correre parecchio, insomma la risa è decisamente notevole. Siamo a Montesilvano, la politica, Paolo Di Blasio in rotta verso Fratelli d'Italia, Montesilvano è caccia i posti nelle liste del centrodestra, che raccoglie anche due ex PD, penne il comune paga il bus agli studenti per i pendolari delle superiori, siamo all'Aquila, fiction sul sisma, levata di scudi, danno di immagine alla città, la prima puntata di L'Aquila Grandi Speranze ha sollevato una lunga serie di critiche e polemiche, proteste sul web per la guerra tra bande in centro, per alcune imprecisioni sui fatti del post terremoto, arriva anche la richiesta, togliete l'Aquila dal titolo, restiamo all'Aquila cambiando argomento, le casette della piazza potrebbero finire a Collemaggio. E poi, folla per l'addio a Serena, il giovane a domiciliari, udienza di convalida in ospedale per Mario Marini, che poi ieri è tornato a casa, folla invece ai funerali della giovane donna, Serena Durastante, morta in questo incidente stradale. Decennale, un racconto sulla città che cambia, ecco tutte le iniziative all'Aquila per il decennale dal terremoto, dobbiamo ritrovare l'anima, detto il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, il sindaco Biondi dice è una vetrina. Il bilancio della fondazione Carispac Torrione partono i lavori, quasi ok, il parco del castello, siamo ovviamente sempre all'Aquila, l'Aquila che piange la scomparsa dell'avvocato Paolo Di Napoli. Spostiamoci a Montereale, il bullo settantenne condannato a sei anni, e poi proteste in ospedale, chirurgia, ascensore e guasto e allarme. Infine sono online le 170 attività in centro storico nel capoluogo di regione. Siamo ad Avezzano, scintille tra il sindaco De Angelis ed Ezio Stati, per apprezzamenti non gradinti, il primo cittadino querela l'ex assessore regionale, lo scontro è avvenuto davanti al comune. Ancora Avezzano, consiglio deserto, il sindaco, io sconcertato, e poi sul Mona, Gilberto Malvestuto, 98 anni di resistenza, infatti compiuto ieri, proprio ieri, 98 anni, Gilberto Malvestuto, ultimo ufficiale in vita della Brigata Maiella, l'unica formazione partigiana, come leggiamo in questo articolo, partigiana italiana, decorata con medaglia d'oro durante la resistenza. Vediamo poi a centro pagina, sul Mona, tra gestore e proprietario, finisce a botte una condanna, e poi Villetta Barrea, grande attesa per la passione vivente, poi Avezzano, Li Foundri, sull'accordo nuove per complessità della CISL, e poi Summit con il prefetto, dopo le rapine, i commercianti incontrano proprio il rappresentante di governo, per fare il punto della situazione. Siamo a Chieti, un autobus da incubo per la gita scolastica, interviene la polizia stradale, cinture di sicurezza incastrate, porta di emergenza chiusa dall'esterno, la partenza autorizzata solo dopo le riparazioni. Il clan della droga, lo scambio di sim e telefonini, non salva gli abbanesi dall'arresto, e poi la rapina, botte alla titolare del pub, pregiudicato in manette. Restiamo a Chieti, improvviso cedimento della strada, via Signo Aereo, nuovo stop alla panoramica, andiamo poi nella parte bassa della pagina, lettere ai dipendenti, addio alla ASL, lascia l'azienda, il direttore sanitario Orsatti, e poi verso Pasqua, i giorni della passione, oggi celebrazione, a Casali Incontrada, domani ci saranno le tradizionali processioni, del venerdì santo, in moltissime città e centri della nostra regione. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, droga market nella casa famiglia, blizze dei carabinieri a Villa Paola di Treglio, scoperti 400 grammi di cocaina e 100 di hashish, 11 indagati, arresti domiciliari per madre e figlia. Possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio. Ci sono anche impiegati e addetti alle pulizie di una casa di riposo di Treglio, tra le persone coinvolte nell'operazione antipotente di droga condotta dai carabinieri di Lanciano sul territorio. Al termine di una decina di perquisizioni, con l'ausilio di unità cinofile di Chieti e del NAS di Pescara, i militari del capitano Vincenzo Orlando hanno arrestato due donne, madre e figlia, Carolina Barlafante, 63 anni, e Fiorella Scaglione, 44, entrambe di Lanciano, sorprese con mezzo chilo di sostanze stupefacenti, quattro etti di cocaina e un etto di hashish, nascosti nella loro stanza all'interno della RSA dove lavoravano. Nel corso dell'operazione, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un parente delle due donne, VS, 44 anni, che deteneva oltre 32 mila euro in banconote suddivise in pacchetti numerati, soldi ritenuti provento dello spaccio. Altra droga è stata sequestrata ad un 62enne di Lanciano e a un 19enne di San Vito. Le attività di pedinamento sono durate mesi, durante i quali i carabinieri si sono finti anche operai. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Lanciano. Le due donne incensurate sono state poste ai domiciliari, in attesa di essere interrogate. L'accusa è detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento risultano 11 indagati, ma le indagini proseguono per individuare altri soggetti che possano aver preso parte all'attività di spaccio. Gli inquirenti non escludono la possibilità di una più intensa opera di riciclaggio finalizzata al reinvestimento del denaro illicitamente guadagnato. La droga sequestrata, quasi esclusivamente diretta al mercato frentano, avrebbe potuto garantire al gruppo criminale un introito di oltre 70 mila euro. Restiamo a Lanciano. L'assessore regionale alla sanità verì in visita all'ospedale Renzetti e poi a Tessa, tre istanze di fallimento per la Blutec a Pescara e poi Vasto, presa la banda foggiana della rapina, Boschetti ancora a Lanciano, Maxi Multa, il gestore per lo stop delle piscine. Andiamo nella parte bassa della pagina, spiraglio per l'estate musicale frentana, l'assemblea boccia le dimissioni del CDA. Infine Ortona, questo è il titolo, riattivare chirurgia e ortopedia. Paolucci interviene sull'ospedale Bernabeo di Ortona. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero, la Teramo Ambiente e il nuovo partner arriva a una società di Venezia, la Comir SRL, si è giudicata la gara con un'offerta di 1.750.000 euro. E poi, colonie feline e murate, il blizze dei carabinieri all'ex manicomio, nei locali dell'ex manicomio di Teramo, Santa Lucia di Atri, discarica il WWF contro l'ampliamento. E poi, torniamo sulla vicenda drammatica del magistrato della mano del sostituto procuratore Bruno Auriemma che resta gravissimo in gravissime condizioni dopo essere volato giù dal viadotto domenica scorsa. Processo Station Wagon per portare il bimbo ma è una truffa, questo è il titolo nella parte bassa della pagina. E poi, ci spostiamo invece a Giulianova, pagina 51, annullato il concorso per dirigente tecnico, l'annuncio è stato dato da Ivan Costantini, leader del Polo Civico che aveva contestato la decisione, costò la querella a due candidati. E poi, Alba Adriatica, ordinanza anti-cani in Pineta è polemica. E poi ancora, Giulianova, parliamo delle amministrative, la Camelli resiste alle offerte di Forza Italia e Lega, ancora Giulianova, notte di furti in via Cupa, Val Vibrata, città più pulite, per l'arrivo dei turisti, a Martinsicuro e Tortoreto, operazione per la messa in sicurezza delle strade e manutenzione. Infine, ancora in Val Vibrata, infarto fatale per l'ex collaboratore di giustizia. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano la città, ripartiamo da pagina 3, aggressori della troupe RAI, arrestati per rapina, abbiamo visto prima il servizio e poi trasporti, Gianfranco Giulianti alla Presidenza e Morra verso il CDA della TUA, polemiche sulla fiction RAI, sul terremoto Aquilano, ne abbiamo parlato anche prima, ricostruzione, i cantieri già provati sono ancora fermi, l'allarme di Guizetti e Sacchini di Montorio avanti insieme a pagare, dicono, è un territorio già disagiato. Restiamo a Montorio, centro di teleconduzione Enel, Pepe chiama in causa il Presidente Marsilio, Presidente della Regione, fondi per le scuole più personale all'URUS, riunita la cabina di regia del Sisma del Centro Italia, affrontati i due temi impellenti della ricostruzione nel Terramano. Andiamo a vedere anche pagina 7, Traforo del Gran Sasso, a rischio chiusura, Strada dei Parchi, scrive al Ministero i lavori di messa in sicurezza dell'acqua spettano allo Stato e non al gestore. Interessi speculativi sui lavori di messa in sicurezza dei viadotti, l'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Ramadori, scrive al Ministro Toninelli per lamentare l'ennesimo intoppo in ballo gli aumenti dei pedaggi, leggiamo in questo titolo. Teramo, il nuovo socio della Teramo Ambiente è il socio Gavioli, il 49% della partecipata giudicato all'asta la Comir dell'imprenditore Trevigiano. Vediamo poi la prossima pagina, da un anno pronto al rientro in Teramo Ambiente, all'asta oppure tramite il concordato c'era sempre l'interesse della Comir. Smette di camminare salvato all'ospedale Mazzini di Teramo, una storia di sanità eccellente dai reparti di neurologia e neurochirurgia alle prese con un paziente speciale, questa bella storia che arriva proprio dall'ospedale di Teramo. A proposito di sanità, gli infermieri abruzzesi hanno incontrato la delegata dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì. A Teramo all'ex manicomio scoppia la guerra dei gatti ad un mese dall'inizio dei sopralluoghi per la ristrutturazione non è ancora risolta la questione della colonia. E poi 24 e 25 aprile due giorni di lotta e memoria per la festa della liberazione e tante le iniziative nella nostra regione. Siamo alla pagina della Val Vibrata Tortoreto 10 vigili stagionali per garantire la sicurezza durante l'estate ancora Tortoreto 300 residenze sospette comune a caccia dei furbetti che dichiarano la prima casa senza viverci e poi Civitella del Tronto Branduardi ospite d'onore a Santa Maria dei Lumi si esibirà il 27 aprile. Vediamo anche in basso Corropoli domani torna l'antica processione del Venerdì Santo. Proseguiamo con la pagina di Giulianova e Mosciano Sant'Angelo partiamo da Giulianova Grimi Attacca abbiamo il mandato di contrastare lo strapotere leghista l'ex Fratelli d'Italia spiega le motivazioni del passaggio in azione politica e poi Mosciano il centro-destra si spacca sul candidato sindaco probabili due liste diverse per le amministrative di Mosciano Sant'Angelo Giulianova entrano nel vivo i festeggiamenti per la Madonna dello Splendore e ancora Giulianova Fedesport si uniscono con l'iniziativa andiamo a camminare proseguiamo la pagina della zona costiera del Terramano partiamo da Pineto Mercatone 1 Robert Verrocchio sindaco uscente di Pineto è candidato proprio a guidare la città per un nuovo mandato scrive al ministro Luigi Di Maio proprio per quanto riguarda la vertenza Mercatone 1 e poi invece Roseto degli Abruzzi in arrivo i lavori alla foce del fiume Vomano affidato il sopralluogo con il georadar propedeutico alla messa in sicurezza ancora Roseto nasce proprio a Roseto degli Abruzzi il sito per promuovere il turismo sociale proseguiamo Silvi villaggio del Fanciullo il progetto sarà pronto entro la metà di maggio Atri WWF contrario all'ampliamento della discarica Santa Lucia vediamo la prossima pagina la cultura studiamo la ceramica d'Abruzzo fresco di stampa il numero 0 della rassegna diretta da Diego Troiano lasciamo dunque anche il quotidiano la città siamo allo sport le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport Ribaltone Juve Ronaldo Furioso attende rinforzi dopo l'eliminazione della Champions League questa sera tocca al Napoli rimontare cercare di rimontare il 2 a 0 dell'andata per quanto riguarda l'Europa League ma con l'Arsenal serve un'impresa e poi un sondaggio della Gazzetta dello Sport dice che è crollata la fiducia dei tifosi negli arbitri l'80% proprio dei tifosi italiani su Gazzetta.it errori che fanno pensare male vediamo il Corriere dello Sport Ancelotti solo tu Europa League il Napoli alle 21 prova a rimontare due gol all'Arsenal un'altra Juve ossessione champion e rifondazione Ronaldo resta una certezza su Allegri c'è l'ombra di Conte scrive il Corriere dello Sport ma la società ha già annunciato che Allegri resterà e poi il recupero di ieri in Serie A con la Lazio che ha battuto l'Udinese per 2 a 0 portandosi a 52 punti in classifica e a meno 3 dal quarto posto infine tutto sport paga Di Bala che potrebbe lasciare la Juventus e poi adesso Carlo Io Ancelotti in esclusiva a poche ore dalla gara di Europa League con l'Arsenal andiamo a vedere le pagine dello sport del centro Champions dopo l'eliminazione Juve pronta a cambiare Allegri dice bisogna ripartire come dicevamo prima la Lazio riparte 2 a 0 all'Udinese nel recupero di campionato Capitolini che si portano a 52 punti e poi la missione di Edireia ex tecnico del Pescara nuovo commissario tecnico della Nazionale Albanese voglio portare l'Albania ha detto Reia agli europei Pescara Campagnaro vuole esserci a Carpi buone notizie per Pilon in vista della sfida di lunedì al Cabassi l'Argentino torna a lavorare in gruppo e si candida e per una maglia Pilon deve scegliere se schierarlo titolare o preservarlo per la partita contro il Verona Memusciai Carica in Emilia gara fondamentale buone notizie dall'infermeria invece del Carpi con Castori che recupererà diversi giocatori e poi altre due notizie Pilon ha portato i Biancazzurri a cena nella zona di Pescara vecchia e poi per quanto riguarda playoff e play out è ufficiale ci sarà il Varlo ha detto il Presidente della Lega Balata parliamo del Teramo Teramo che chiede aiuto ai tifosi per centrare l'obiettivo salvezza sabato sera ci sarà la Vis Pesaro allo Stadio Bonolis alle 20 e 30 c'è Abruzzo Puglia parliamo del torneo delle regioni la Juniores della nostra regione vuole la finale parliamo di Serie D perché oggi si gioca la 36esima giornata è una giornata importante per le formazioni abruzzesi Bolzan Giulianova reagisce il tecnico chiede al pubblico una mano per battere il Montegiorgio Lavastese a Castelfidardo in campo per blindare la salvezza Notaresco che sfida a Teramo la capolista Cesena Avezzano Aldemarsi contro il Campobasso conta solo vincere poi il Pineto ad Agnone per continuare a correre il Francavilla contro la Iesina per blindare il quinto posto andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero Memosciai Sicuro Carpi vincerò io il centrocampista del Pescara del Grande Ex Alcabassi dove lavora il fratello come giardiniere proprio allo stadio Emiliano e poi ufficiale ai playoff sarà sperimentato il VAR lo ha annunciato il presidente della Lega di Serie B Balata infine il Teramo per quanto riguarda questa pagina biglietti scontati per la gara con la Vispesaro mister Maurizio rompe gli indugi e schiera un tridente con De Grazia Sparacello e Infantino vediamo l'altra pagina di sport del quotidiano il messaggero punti chiave per salvezza e playoff parliamo di Serie D con le gare che oggi vedranno protagoniste le formazioni abruzzesi il clou a Teramo al Bonolis dove il notaresco affronterà il Cesena e poi il basket di Serie A2 maschile giovani del Roseto uguali a quelli dell'Ajax Roseto partito per centrare la salvezza e che invece giocherà i playoff vedete poi come ogni giovedì la mezza pagina che il messaggero dedica al calcio provinciale Wisp di Pescara con notizie e foto infine le pagine dello sport del quotidiano la città si parla ovviamente in primo piano del Teramo lo fa Armeno giocatore bianco-rosso che dice con la Vis Pesaro sarà una finale il centrocampista aggiunge ci vorrà equilibrio e mentalità vincente ma senza rischiare troppo turno prepasquale in Serie D notaresco ospita la capolista Cesena al Bonolis e vediamo proprio grazie a questo riquadro del quotidiano la città tutte le gare di oggi Avezzano Campobasso Castelfidardo Vastese Forlì Sant'Arcangelo Francavilla Iesina Matelica Savignanese Notaresco Cesena Olimpio Agnonese Pineto Real Giulianova Montegiorgio San Maurese Isernia San Giustese Re Canatese siamo giunti alla termine così dell'appuntamento odierno con Mattino 6 appuntamento che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per la cortese visione vi ricordo gli appuntamenti informativi e sportivi nella giornata di oggi per quanto concerne la nostra rete alle 14 come sempre la prima edizione del TG6 e poi a proposito di sport vi avevo anticipato in apertura dell'appuntamento di oggi due appuntamenti canonici con la serie D che scende in campo e dunque alle 15 ci sarà diretta stadio alle 19.30 questa sera l'Abruzzo del Pallone e alle 21 il tradizionale appuntamento del giovedì con il ciclismo con Belò con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini grazie ancora e buona giornata grazie a tutti